Abbiamo chiesto dunque alla società di, in avvio di tavolo, confermare questi elementi. Dunque, a parte il piano occupazionale, il riconoscimento per un costo medio che mi pare sia intorno ai 50.000 euro, questa conferma non è venuta e pertanto abbiamo detto all'azienda che senza questa conferma il tavolo per noi non si può aprire. E abbiamo richiamato e richiameremo ancora nelle prossime ore gli azionisti alla loro responsabilità e alle obbligazioni assunte con il governo italiano.